Stavano tentando di attraversare le acque del fiume Brenta a Fontaniva quando la corrente li ha colti di sorpresa mettendoli in difficoltà. Due ragazzi del Bangladesh sono stati salvati dai vigili del fuoco arrivati da tutto il Veneto. L'intervento dopo l'allarme è lanciato dai carabinieri. Sul posto sono arrivati i pompieri di Cittadella, la squadra fluviale da Padova e da Venezia si è alzato in volo l'elicottero Drago 149 con a bordo una squadra di sommozzatori di Vicenza. I due giovani, travolti dalla corrente, stavano cercando di tornare a Riva. Uno dei due è riuscito a raggiungerla mentre il secondo si è attaccato ad un tronco per non affogare. Il ragazzo sull'albero è stato recuperato da un sommozzatore che si è calato dall'elicottero con il vericello. Invece l'altro straniero sulla riva è stato caricato direttamente a bordo del velivolo atterrato sulla sponda del fiume. Entrambi sono stati portati in ospedale per tutte le cure. Una tragedia sfiorata, quella di Fontaniva, che per molti aspetti ricorda la recente drammatica vicenda del fiume Natisone dove sono morti tre giovani. Le immagini delle due ragazze e del ragazzo ancora disperso, abbracciati per fronteggiare la forza dell'acqua, sono ancora impresse nella mente di tutti. Fortunatamente a Fontaniva l'intervento immediato dei pompieri ha scongiurato un nuovo dramma.